salve nel precedente video vi ho mostrato il bello della natura vi ho mostrato come si presenta la moto equipaggiata col tris di valigie originali di moto murini oggi ve la faccio vedere spoglia ovvero carrozzata con i soli telaietti laterali e la piastra porta bauletto originale che si va a posizionare sopra il portapacchi di serie già presente sulla moto secondo me i telaietti la piastra non alterano di troppo l'aspetto visivo della moto quando è spoglia perché perché i telaietti secondo me la rendono ancora più massiccia e ne amplificano l'aspetto avventuriero e poi lateralmente non sporgono troppo vi farò vedere poi dall'alto e quindi se vogliamo utilizzare la moto in città quindi averla più leggera per divincolarci dal traffico non abbiamo troppa sporgenza troppo ingombro e la motocicletta resta abbastanza snella mentre per quanto riguarda la piastra non sporge eccessivamente ma va a terminare quasi all'altezza della porta targa inoltre la piastra mantiene lo stesso colore colore alluminio del portapacchi già presente quindi non stacca nemmeno la la cromatura rispetto ad altre piastre after market che ho visto che sono nere e quindi spezzano anche il colore poi originale del portapacchi e quindi vanno forse ad alterare un po di più il la coda della moto andiamo a vedere da vicino come sono fatti questi telaietti e la piastra e come montano allora i telaietti vanno a posizionarsi si vanno a montare sulla moto con tre bulloni e si agganciano qui vicino alla pedana per il passeggero posteriore e in questi due punti qua sotto alla coda della moto questi sono gli appicchi dove si aggrappano le borse laterali e poi con l'apposita chiave si chiudono qui su queste serature e restano ben saldi e non si muovono per quanto riguarda la piastra invece si va a montare con questi quattro bulloni che vanno a sostituire i bulloni già presenti del portapacchi sono un po più lunghi si mettono e gli altri bulloni ce li conserviamo questi sono gli appicchi per aggrappare il boletto e si chiude qui con l'apposita serratura sentiamo il rumore la piastra è di un alluminio abbastanza solido resistente di qualità e però questo trattamento che ne rende la superficie satinata è molto delicato infatti vediamo che ci sono già dei segni si rovina facilmente così come anche le borse di balletto si rovinano facilmente si graffiano molto facilmente e quindi per quando sono belli sono anche delicati un appunto il telaietto e la piastra sono arrivati sprovvisti di due barre di rinforzo una di destra una di sinistra che andrebbero a montare in questo modo si posiziona in questo punto poi dovrebbe fare questo percorso la barra andare a terminare qui e montare qui una destra e sinistra e sono delle ulteriori barre di rinforzo che moto morini non mi ha ancora inviato insieme ai telaietti quando ho ordinato le borse ma ha scritto un'email al concessionario dove dice che me ne invieranno a più presto nel frattempo sconsiglia di utilizzare il boletto in offroad perché le eccessive sollecitazioni le vibrazioni potrebbero provocare dei danni alla piastra si potrebbe piegare visto il peso visto le sollecitazioni quindi queste due barre di rinforzo dovrebbero sostenere la piastra da sotto unico appunto volevo far vedere una cosa se volessimo utilizzare la moto spoglia delle borse del boletto per avere una moto più pratica più leggera da usare in città da usare nel quotidiano sotto la sella non abbiamo tanto spazio nella mia moto precedente sotto la sella riuscivo a mettere almeno un bloccadischi da portarmi dietro all'occorrenza per sicurezza e i classici amuleti portafortuna invece sotto la sella di questa moto lo spazio è poco il bloccadischi non ci va non trovato spazio utile dove posizionarlo altrimenti la sella non si chiude ci va malappena il libretto che custodisco in questa custodia impermeabile e in questo spazio è posizionata la custodia con dentro i ferri della motocicletta adesso vi farò vedere cosa contiene e poi con questa molla che è andata a finire qui sotto si va ad agganciare qui per evitare che si muova e faccia rumore durante il viaggio andiamo a vedere cosa c'è nella custodia con i ferri esattamente questa qui e dentro troviamo due chiavi inglesi le misure sono 17 14 8 e 10 un chiavino un cacciavite con punta fissa e punta stella e il manico del cacciavite questi sono gli unici ferri che troviamo all'interno di questa custodia l'occorrenza potremmo metterci nei altri se riusciamo a farci rientrare io nella mia moto precedente avevo messo altri chiavini che mi potevano servire e bloccadischi sotto la sella qui non ci vanno la motocicletta è stata da me utilizzata fino adesso per circa 200 chilometri l'ho potuta provare in off road nel traffico in autostrada da solo in coppia con le borse e senza borse come si è comportata viaggiando da solo la moto mantiene il suo aspetto e il suo assetto abbastanza rigido da off road sprigiona l'off road che in noi quando ci sono sconnessioni sulla spatto le forcelle anteriori hanno a volte una risposta bella secca mentre viaggiando in due la moto a volte sicurica un po sul suo mona portiamo un mona ammortizzatore posteriore e ci induce ad avere un andamento più turistico vi dico subito che io sono una persona alta un metro e 93 per 100 kg e la mia zavorrina invece è una persona di un metro e 70 per circa 60 kg quindi oltre me che sono abbastanza grosso non trasporto un peso eccessivo e la motocicletta comunque sicurica e diventa più docile più più turistica comunque il mona ammortizzatore è regolabile nel carico e nel precarico così come le forcelle nel traffico la moto è gestibile e il peso non si sente di 230 kg a secco e si riesce a gestire bene tra il traffico e si riesce a manovrare bene io sono come detto un metro e 93 riesco ad allungare perfettamente le gambe riesco a mantenere una guida con il busto abbastanza dritto e le braccia semi flesse e quindi una postura veramente comoda mi trovo veramente bene con questa moto l'ho provata anche in autostrada viaggiando anche in una situazione di forte vento e la moto non è risentita ha mantenuto un assetto abbastanza stabile il vento non mi ha sballottolato più di tanto e la marcia era abbastanza fluida quindi molto molto bene l'andatura era di circa 110 120 km orari a 5000 giri l'unico appunto in questa situazione è stata una vibrazione fissa a questa andatura sulla pedana di destra a questa andatura autostradale di circa 110 120 km orari questa pedana vibrava in maniera fissa e quella di sinistra no la sella è molto comoda a mio parere e le risonanze le vibrazioni in questa zona del serbatoio sono nell'ordine del normale accompagnano tra 3000 e 5000 giri e poi spariscono in alcune condizioni ma non danno in alcun modo fastidio sono al mio avviso normali vibrazioni che sulle moto di questo tipo con questo motore 650 bicilindrico si sentono e quindi sono normali unica cosa negativa che non mi è piaciuta per adesso sono gli specchietti gli specchietti non sono molto soliti risentono molto delle vibrazioni del manubrio e tendono a sposizionarsi facilmente durante la guida devo stare in continuazione a regolarmi nuovamente soprattutto in una situazione autostradale dove ci sono delle micro vibrazioni inevitabili al manubrio praticamente gli specchietti hanno questo comportamento vibrano in modo fisso e quando io vado a guardare per vedere se sopraggiungono veicoli da dietro prima di effettuare una manovra di sorpasso all'interno dello specchietto non ho una visuale nitida quindi devo concentrarmi per vedere bene se sopraggiungono veicoli soprattutto in situazioni dove magari non hanno i fari accesi unica nota dolente e credo che sussidirò questi specchietti perché non mi danno sicurezza per il resto invece la moto mi dà tanta sicurezza molto forte la frenata anche in situazioni di emergenza i freni sono potenti sono adeguati al peso e alla cilindrata della motocicletta quando si pinza forte le forcelle affondano ma la moto è stabile non si smuove ho provato anche a far attivare la bs scalando forte in curva e la coda resta abbastanza stabile non c'è quel movimento quello scodale della moto forte che ti può far perdere il controllo della stessa ma è abbastanza accessibile e il movimento della coda è minimo quindi una motocicletta molto sicura usando le in due ovviamente come detto oltre a caricarsi un po sul mono apportizzatore per il resto la motocicletta ha una cilindrata adeguata per viaggiare per fare turismo per andare in autostrada per muoversi in città non ho avuto problemi anzi siamo incomodi tutti siamo comodi tutte e due sia gli avanti che la zavorrina dietro vi volevo parlare anche di questo terminale di scarico che secondo me abbastanza pagante per essere un terminale di serie ovviamente il suono del motore affogato dall euro 5 però lo scoppiettio di questo terminale di serie vediamo qui il dettaglio della doppia m è abbastanza soddisfacente quando si scala quando si decelera a volte uno scoppiettio bello da sentire ho provato la moto un po in tutte le condizioni anche con un piccolo off road come vediamo e la motocicletta da tanta sicurezza permette anche a chi non si è mai interfacciato con questo mondo dell'off road di affrontarlo per le prime volte con tanta sicurezza di sfratticarsi e quindi di avvicinarsi anche a questo tipo di percorsi ricordo che la bs è disinseribile mentre invece non ci sono mappe specifiche c'è solo la modalità ride e la modalità off road del display che però non va a cambiare la mappatura della moto ma è solo un cambiamento della fantasia del display quindi abbiamo un contagiri con ruota tassellata con modalità off road mentre un contagiri più classico stile gs in modalità ride questa è la motocicletta vista anche dalla parte laterale sinistra vi dico che farò un altro video dove vi descriverò un po le funzionalità del display i vari menu di navigazione all'interno del display i vari settacci che possiamo regolare all'interno del display e poi vi aggiornerò sui miei prossimi viaggi ho intenzioni di raggiungere delle mete se il tempo lo permette perché stanno facendo veramente delle belle giornate nonostante sia febbraio le temperature sono miti si riesce a stare in modo in maniera molto piacevole e vi farò sapere la moto come si comporta viaggiando in due con le borse e le borse ovviamente cariche quindi vi farò sapere se la moto si comporta bene e come andrà il viaggio ovviamente vi farò vedere anche vi descriverò anche poi i luoghi che andrò a visitare quindi se vi piace il turismo se vi piace la scoperta seguitemi